È rivolto a liberi professionisti, commercialisti e consulenti a tutti gli operatori della pubblica amministrazione. Il master di primo livello in accounting e management dell'ente locale, attivato dall'Università d'Annunzio di Chieti Pescara. Il master è rivolto a studenti della nostra università, ma anche di altre università, a liberi professionisti e dipendenti della pubblica amministrazione che attraverso questo master vogliono arricchire il proprio curriculum e ovviamente formarsi maggiormente per ricoprire incarichi apicali all'interno della pubblica amministrazione. Che figure professionali vengono formate? Noi formiamo innanzitutto figure apicali per l'ente locale, in particolare per i servizi finanziari, che in questo momento soprattutto hanno necessità di trovare nuovi dipendenti. E quindi noi abbiamo creato questo master con lo scopo di favorire anche l'inserimento nel mondo del lavoro di persone che attualmente hanno una laurea con indirizzo magari economico e non riescono a trovare quella occupazione che meritano. Il percorso formativo proposto ha lo scopo di formare figure professionali altamente specializzate sui temi della contabilità e del management della pubblica amministrazione attraverso un percorso interdisciplinare che punta all'acquisizione di competenze distintive gestionali in materia di responsabilità di servizio, di tenuta della contabilità, di pianificazione e di direzione e controllo aziendale. La durata di tutti i master è di un anno, perché i master sono universitari e hanno una durata di un anno. Durante questo anno ci sarà ovviamente la possibilità di frequentare sia in presenza sia da remoto e poi ci sarà la necessità di frequentare uno stage rispetto al quale si strutturerà meglio la formazione operativa dei nostri studenti.